ciao a tutti sono Filiberto quest'anno mi piacerebbe partecipare ai Plastici d'Italia 2014 io posso partecipare mi piacerebbe partecipare con le mie Ale 601 una macchina che mi ha sempre affascinato fin da quando ero bambino perché le vedevo in arrivo in sosta alla stazione Termini e ho avuto l'occasione pure di fare un paio di viaggi all'epoca saluto a tutti ciao Grazie a tutti